Iniziamo con una torsione a mela di circa due dita. Facciamo ora una bolla di 14 dita. Una pallina di due dita, torsione d'oreggio, una bolla di 5 dita, due palline di un dito l'una. Un'altra bolla di 5 dita. Chiudiamo, trasformiamo le due palline in due torsioni ad orecchio. Ora facciamo una torsione ad anello di circa 10 dita. 5, 5, 10. Andiamo a chiudere il nostro anello intorno alla torsione ad orecchio. Allarghiamo un pochettino e facciamo passare la bolla lunga di 14 dita al suo interno. In questo modo facciamo un'altra piccola pallina di due dita. Torsione ad orecchio. Togliamo il palloncino in eccedenza. Facciamo un nodo. Prendiamo ora l'altro palloncino. Ammariamo bene il nodo del secondo palloncino in questa zona. Dovremo fare ora tre bolle consecutive di circa 4 dita. Cerchiamo di lasciarle morbide. Chiudiamo le prime due bolle. Un'altra bolla di 5 dita. E la passeremo all'interno delle altre due bolle. Una pallina di due dita. Torzione ad orecchio. Faremo ora un'altra torsione ad anello di circa 10 dita. Distribuiamo l'aria. L'abbassiamo in torno. E l'ammariamo con la torsione ad orecchio. Togliamo il palloncino in eccedenza. L'ammariamo. 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 Aggiustiamo la nostra figura. E' anche terminata la nostra pistola laser. Ciao alla prossima. Grazie a tutti.